FABBIO CARBONE Sono Fabio Carbone, ingegnero mechatronico nel departamento dell'ADVANCE-ND di Brembo. Sono Giulio Calamai e sono ingegnero mechatronico nel departamento dell'ADVANCE-ND. Il departamento dell'ADVANCE-ND. Il Brembo è un leader mondiale nel design, sviluppo e sviluppo di sistemi freni. È attivo nei mercati di auto, e nei mercati di motore, anche nei componenti del mercato e del racconto. L'ADVANCE-ND Adesso usiamo il LMS Ammising per Usiamo il LMS Ammising applicazioni. Abbiamo iniziato una metodologia di design model da funcione specifiche delle necessità a componenti di certificazione. LMS AmiSim Bisogneremo a prevedere la performance e assurare la robustezza nel primo senso del processo design. LMS AmiSim ha migliorato il nostro ciclo di sviluppo perché spedono i nostri progetti di design in applicazioni di Brick by Wire e Electric Pack-in-Maker. Mi preferisco il modello di modellazione di user-friendly e il modello di grafica di sistemi complexi mechatronici. Abbiamo apprezzato il modello di modellare e di condividere i risultati e i cronici. Grazie per la visione!